Salve a tutti, oggi vi presento due nuove linee di ami della Katana, l'11-35 e l'11-15. Parliamo dell'11-35. L'11-35 è un amo a becco d'aquila, adatto per pesci di grossa taglia, ma può essere utilizzato anche nelle misure inferiori senza aver nessuna paura di inconvenienti quali slamatura e apertura dell'amo, in quanto è realizzato in black nickel, nella versione nera, con una forte mimetizzazione all'interno dello spot di pesca. Quest'altro amo, l'11-15, anch'esso a becco d'aquila, un amo adatto anche questo alla ricerca di grossi pesci, ma anche nelle misure inferiori. Sono due ami che possono essere usati contemporaneamente, secondo dei propri gusti, secondo delle proprie esigenze. Comunque sono ami che consiglio, soprattutto per la pesca alla carpa, in laghetto all'inverno, quando bisogna utilizzare ami di dimensioni piccole, ma comunque robusti. Grazie per la visione!